Fiorenzuola è il comune più popoloso tra quelli chiamati al voto nel Piacentino il 3 e il 4 ottobre. Sono due i candidati alla carica di sindaco, l'attuale primo cittadino Romeo Gandolfi con la lista Siamo Fiorenzuola e Dario Marini Ricci con la lista Cambiamo Fiorenzuola. Ai candidati abbiamo chiesto di sintetizzare in 30 secondi i loro progetti per le frazioni. L'ordine è quello sorteggiato sulla scheda elettorale. L'obiettivo della nostra amministrazione è proseguire nella linea di mandato precedente. Massima attenzione alle frazioni. Adesso è in corso la revisione della toponomastica delle frazioni e delle case sparse per consentire l'intervento mirato dei mezzi di soccorso in caso di bisogno ma anche per facilitare la vita dei corrieri per le consegne. Nelle frazioni abbiamo già dimostrato di intervenire in tempi brevi e così continueremo a fare. Intendiamo prestare alle frazioni quell'attenzione che in questi 5 anni spesso è mancata. Per esempio ci impegniamo a ripristinare il servizio di scuola bus assistito per la scuola dell'infanzia di San Protaso che questa amministrazione è inspiegabilmente chiusa. Ci impegniamo inoltre ad organizzare un piccolo servizio di trasporto pubblico nei giorni di mercato per permettere alle persone anziane che abitano a Basilica e a San Protaso di recarsi al mercato di Fiorenzuola. Più di tutto intendiamo ascoltare e dialogare i cittadini delle frazioni anche attraverso incontri pubblici periodici. Grazie. 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 Grazie.